La fiera più importante di Pordenone Fiere Il corso anno sono numeri che parlano da soli. Parla da solo anche il format di questa fiera che è banalissimo, semplicissimo ma fatto di tanti professionisti che offrono nuove idee, parlavamo di arte e design con i fiori e con le piante ed è solo uno di. Ci sono tanti compartimenti stagni che vendono il fiore, l'orto, la pianta in maniera diversa. Come dicevo questi numeri sono tali per cui stiamo valutando seriamente, se non per dire quasi deciso, di internazionalizzare per prima questa fiera, chiaramente senza compromettere il business di Pordenone. Ricordo che il 10-12% dei visitatori sono sloveni e croati, quindi quella sarà l'area di interesse per internazionalizzare questa manifestazione. Il Giardino delle Meraviglie è un salone itinerante che si posiziona su manifestazioni di successo per dare molta visibilità ai nostri espositori. È un salone che ha delle attinenze col mondo dell'aredo, del terrazzo, del giardino e ha delle particolarità a fare una ricerca in tutto il territorio italiano di artigiani che abbiano delle particolarità da proporre al visitatore e indurlo all'immediato acquisto. Sono sempre affiancati da eventi all'interno del salone curiosi. Quest'anno ne abbiamo due abbastanza importanti che ci riconducono comunque alla vita rurale. Uno è l'orto a palazzo che è stato ideato da Angelo Grassi. Ripropone l'orto rurale che si può riprodurre nel terrazzo, nel giardino e nel giardino anche verticale per chi non ha possibilità di spazi. Le erbe aromatiche, tutto quello che ci riconduce ai nostri nonni, per cui riportiamo in tavola le nostre erbe, le nostre cose da riportare poi in cucina. Invece poi abbiamo la bottega di Betti, che è una bottega artigiana, un decoratore che da una sua idea ci riporta agli uccellini, gli uccellini liberi. Per cui non più gli uccellini intesi dentro alla gabbia, ma li facciamo volare, li troviamo fra di noi. Per cui ho ideato queste casette mangiatoie che sono delle vere e proprie sculture d'arte, per cui le cura, le propone e sono tranquillamente acquistabili. Il nostro intervento è stato alla volontà, anzitutto, degli organizzatori di dare un prodotto diverso. La nostra scuola, la Floral Design, scuola internazionale d'arte floreale, con la nostra televisione, la florasat.tv, saranno presenti durante tutto l'evento per dare un prodotto completativo a quello che si è sempre visto a Orto Giardino. I fiori, le piante, nel nostro stand saranno assemblati in composizioni floreali. La nostra scuola cura la formazione dei fioristi, quindi farli diventare grandi fioristi e floral designer. Siamo anche editori di carta stampata con il nostro giornale Floral Design Magazine, e quindi c'era bisogno di un grande collegamento tra tutte le filiere del mondo della floricoltura, partendo dagli ibridatori, i produttori, chi si occupa di mercato in questo mondo, i grossisti, fino ad arrivare ai fioristi e poi all'utente finale. Quindi mancava proprio il collegamento tra tutti questi comparti del mondo agricolo floreale e con Floral Design siamo riusciti a creare un filo conduttore comune per tutti questi comparti.